Sanità a Matera, domani nuovo sit-in ai microfoni di TRM Network, l'assessore Leone. Centro Oli, Tempa Rossa, tavolo in prefettura sulla crisi occupazionale. Rapporto Istat sulla longevità, Basilicata e Puglia, terre di centenari. Matera 2019, l'orchestra sinfonica della RAI diretta dal maestro Conlon alla Cava del Sole. Giornate del cinema lucano tra gli ospiti Gabriel Garco. Ben ritrovati in studio, in primo piano il tema della Sanità a Matera. Mentre la FIALS annuncia il nuovo sit-in per domani, il consigliere regionale Viziello invita il dirigente ASM a fare chiarezza. Interviene ai nostri microfoni l'assessore alla Sanità regionale, Leone. Sentiamo. Io l'ospedale di Matera lo voglio potenziare, la FIALS deve stare tranquilla perché io ho già messo nelle mani del direttore generale due strumenti importanti, ore aggiuntive e ho detto di assumere personale medico, infermeristico e os non personale amministrativo che i nostri predecessori ce ne hanno lasciati in abbondanza. L'ospedale di Matera, vista la sua posizione, deve tornare a essere un'eccellenza, la dobbiamo riempire di contenuto cominciando con un primo atto importante che è la fibrinonisi meccanica nell'ictus trombotico che a breve porterò in giunta perché l'ospedale di Matera, essendo un ospedale di convine, si deve confrontare con un ospedale di eccellenza quindi la sua esistenza si giustifica se noi riusciamo a riempirlo di contenuti e di professionalità di alto livello. Questo è il nostro obiettivo e questo faremo. I materani devono stare tranquilli e basta che io vorrei trasferire l'ospedale di Matera a Policoma, non si possono sentire. E' la follia dei social e l'ansia di prestazione di chi l'anno prossimo deve andare a votare. Ma l'accorpamento dei reparti che sta preoccupando i cittadini sarà davvero un provvedimento temporaneo? Ho messo 1.600.000 euro l'altro giorno sullo stereotipo e la ginecologia per mettere in sicurezza chi deve andare in camera operato. Ma scherziamo, 1.600.000 euro è già disponibile al direttore generale per poter fare i lavori e mettere la camera operatoria vicino all'ostetricia e alla ginecologia. Ma stiamo scherzando? Basta ora per favore, non le diciamo più queste cose se no ci dobbiamo solo vergognare. L'intervista integrale sull'argomento all'assessore regionale alla sanità Leone sarà raccolta in uno spazio di approfondimento in onda su TRMH24 e pubblicata sul nostro canale YouTube. Andiamo avanti, il centro oli Tempa Rossa, il tavolo in prefettura sulla crisi occupazionale. Se finora il petrolio ha dato più soldi e meno lavoro, adesso serve una inversione di tendenza. All'orizzonte potrebbero alimentarsi tensioni sociali. Emerge in prefettura a potenza lo stallo su Tempa Rossa, portato avanti da sindacati e associazioni operanti sul territorio. Il sito della Valle del Sauro, secondo il governo regionale pronto ormai a partire, è stato oggetto di una nuova interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti. In primis i comuni potentini di Corleto e Guardia Perticara e quello materano di Gorgoglione, l'assessorato alle attività produttive e ovviamente la multinazionale francese Total, operatore della concessione petrolifera che prevede il centro di trattamento più alto di Europa. Dai segretari di CGL Cisle Will, la richiesta unanime di fissare regole rigide sull'occupazione e per diversificare gli investimenti locali, sulla scorta dell'esperienza in chiaroscuro maturata con Enin Valdagri e sul modello virtuoso applicato con l'allorafia Tamelfi negli anni 90. Il comitato di Corleto inoltre ha sollevato il tema sanitario e ambientale, dalla presenza e monitoraggio di sostanze cancerogene allo smaltimento dei fanghi di perforazione risalenti alla scoperta del giacimento. Le criticità attorno a Tempa Rossa sono rimaste ancora tutte insolute, aperte. Già dalla vecchia giunta rimangono gli aspetti relativi all'occupazione locale, nonostante le preintese sottoscritte da tutti i sindaci e organizzazioni sindacali, nel cantiere di Tempa Rossa si continuano ad assumere mano d'opera fuori dal territorio, senza nessun rispetto. Non è solo questione di territorialità, ma è questione anche di dare priorità alle forze, ai bisogni di lavoro territoriale. Ma l'aspetto più ancora di grande difficoltà attiene al cosiddetto protocollo di sito, che nei contenuti non c'è ancora nessun passo in avanti. Cigelle e Cislewil hanno chiesto che non si può immaginare di fare attività estrattive di una certa complessità senza investimenti che vadano oltre il petrolio stesso. È stata sospesa nella giornata di ieri, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali, la gara relativa all'affidamento di gestione e manutenzione impianti in rete idrica e fognaria a servizio delle aree industriali dell'Alta Val d'Agri, Balvano, Baragiano, Isca, Pantanella, Potenza, Senise e Tito, bandita il 7 giugno scorso e che prevedeva un taglio di circa 17 lavoratori. E quanto reso noto dalle sigle segretarie lucane di FIM, FIOM e Wilm, la gara è scritto in un comunicato, aveva visto l'immediato avvio da parte della giudizio ambiente, azienda in proroga che esplica le suddette attività della procedura di mobilità per il licenziamento collettivo dei lavoratori, denunciato all'impossibilità di appaltare una gara con dei tagli e messo in luce la necessità di discutere del nuovo sviluppo e ruolo delle aree industriali attraverso le attività connesse. Plauso a seguito di incontri all'assessore regionale alle attività produttive Francesco Cuparo che ha contribuito in maniera sostanziale, hanno ribadito i sindacati, alla sospensione della gara. I sindacati, oltre a chiedere la sospensione della procedura di mobilità alla giudizio ambiente, chiedono una discussione ampia sullo sviluppo futuro delle aree. Ed ora il rapporto Istat sulla longevità, Basilicata e Puglia sono terre di centenari. Nel panorama europeo, l'Italia, insieme alla Francia, detiene il record del numero di ultracentenari. A dirlo è l'Istat che al 1 gennaio 2019 ha contato i centenari residenti in Italia. Sono 14.456, l'84% sono donne, ma nessuno è nato nel XIX secolo. In pratica si sono estinte tutte le corti dal 1896 al 1903. Fra le persone osservate dall'Istituto Nazionale di Statistica, al 1 gennaio 2019, era residente in Puglia, la persona più longeva d'Italia ed Europa, nonna Peppa, venuta poi a mancare all'età di 116 anni e 90 giorni in provincia di Foggia il 18 giugno scorso. Se la maggiore concentrazione di centenari è al nord-ovest, la distribuzione regionale cambia analizzando il rapporto tra la popolazione semi-supercentenaria e la popolazione residente. Infatti nel rapporto tra ultracentocinquenni e popolazione residente, la Basilicata, ad esempio, è tra le prime cinque regioni italiane, mentre la Puglia figura ben in terza posizione nella classifica per regioni per numero di semi-supercentenari in rapporto alla popolazione residente di 80 anni e più. Più in generale c'è da dire che i dati Istat fotografano una situazione già ben nota. Dei 125 individui che tra il 2009 e il 2019 hanno raggiunto e superato i 110 anni di età, il 93% è costituito da donne, a conferma di una predominanza femminile nelle età estreme della popolazione. Proprio a questo dato è legata un'ultima curiosità. Considerando lo stato civile, la maggior parte dei semi-supercentenari, ovvero più dell'80%, è vedovo o vedova. Ma è interessante notare che tra gli uomini il 13,6% è ancora coniugato, mentre per le donne la percentuale scende all'1,4%. Gli uomini hanno quindi una probabilità più alta di vivere in coppia anche l'età molto estreme della vita, in conseguenza della maggior longevità femminile, e di un'età delle mogli minore, in media a quella dei mariti. A Potenza abbattiamo il Dream Gap, firmato il protocollo tra Comune e Arlab. A settembre partirà un nuovo progetto attraverso un tavolo di lavoro di professionisti, professori e tecnici, che vedrà coinvolte sempre più le bambine di primo e di secondo grado su quella che è la sensibilizzazione e l'orientamento verso le discipline scientifiche, che sempre più vengono viste al maschile e meno al femminile. Vogliamo abbattere questo stereotipo? Andremo due volte la settimana nelle scuole, attraverso delle attività disciplinari, a sensibilizzare questo progetto. Non conosciamo attualmente ancora quelle che saranno le scuole coinvolte, andremo un attimino a capire quelle che sono le scuole che vorranno partecipare a questa iniziativa e dopodiché da ottobre partirà il lavoro. Il tutto si chiuderà con un evento finale, dove avremo molto probabilmente la presenza di Samantha Cristoforetti, a dimostrazione che anche le donne possono riuscire in campo scientifico. Già consiste nelle attività che l'agenzia fa nelle scuole, che coinvolgano anche le municipalità. Questo è il primo protocollo che facciamo, poi ne seguiranno altri sicuramente, mi riferisco anche a Matera, dove creeremo un collante per essere vicini a quelle che sono le istanze, i bisogni, gli orientamenti dei nostri giovani nelle varie fasce di età e di scolarizzazione. Per Matera 2019 l'Orchestra Sinfonica della RAI diretta dal maestro Conlon a Cava del Sole ieri sera. Guardiamo. Beethoven, Biser, Spighi e il repertorio scelto per Sinfonia per l'Europa dal direttore dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, James Conlon a Matera, alla Cava del Sole il 24 luglio. Un omaggio a Matera per l'anno in cui è capitale europea della cultura, voluto dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 con il musicista originario di Calvello, che al pubblico materano ha regalato delicatezza, poesia, musica di altissimo livello. Ed ora andiamo a Maratea per le giornate del cinema lucano, tra gli ospiti anche Gabriel Garco. È un lavoro che ho sempre amato perché mi ha dato la possibilità sin da quando ero piccolo di poter evadere da quello che era il quotidiano. Quando andavo al cinema ci andavo spesso anche da solo. Il cinema era quella magia che ti prometteva di sognare per quelle due ore all'interno di un film. Quindi sin da piccolino ho capito quello che mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe interpretare personaggi realmente esistiti. Lo ha detto Gabriel Garco, protagonista della terza serata delle giornate del cinema lucano a Maratea, premio internazionale Basilicata, in corso nella Perla del Tirreno, sul palco del teatro dell'Hotel Santa Venere. L'attore d'ex bodello, acclamato da numerose ammiratrici, ha parlato dell'amore per il suo lavoro e di come si è avvicinato al cinema e alla fiction. Oltre a Garco sono saliti sul palco il produttore Maurizio Momi, Roberto Cerè, uno dei life coach più influenti a livello internazionale e Jenny Denucci, attrice e influencer, considerata una star del web. Grande successo anche per la proiezione della vedovella, commedia girata nel 64 a Maratea, accompagnata dai ricordi del set visto da bambino del sindaco Daniel Stuppelli e dal curatore del recupero del film, Luciano Cuomo. Molto apprezzato è il cantiere lucano, in particolare il progetto indovina chi viene a pranzo, nato in una scuola di Marsico Vetere, da un'idea di Antonella Marinelli e reso possibile dal gruppo di Jacopo Fo. Ricco programma anche stasera con regista e sceneggiatore Terry George, premio Oscar 2012 per il cortometraggio The Shore. Domattina terrà una masterclass per la scena creativa lucana e ancora i registi Giuseppe Sasi e Giancarlo Fontana, gli attori Nando Irene, Cabir Bedi e la produttrice cinematografica Raffaella Leone. Sul palco anche l'allenatore e calciatore Antonio Cabrini. ...di interpretazioni di pregiato valore artistico che hanno tenuto un riscontro più che positivo da parte del pubblico. Amatera tre giornate con arte fede grazie al progetto Pietre Vive. Sentiamo. Le Pietre Vive d'Italia, Amatera per il Summer Camp 2019. Tre giornate, oggi e domani pomeriggio e sabato mattina per incontrare i volontari di Pietre Vive in cattedrale nella chiesa di San Giovanni e San Francesco e condividere un'esperienza artistica e spirituale di incontro appunto che non è nella forma di una visita guidata né dell'evangelizzazione ma di un confronto cuore a cuore come ama dire Don Jean-Paul Hernández, gesuita, docente di teologia a Napoli. Con l'obiettivo di far nascere il desiderio di incontrare Dio, spiega, nascono le prime Pietre Vive. Quello che ci hanno lasciato i nostri antenati è inutile se non lo scopriamo come luogo del cuore, d'incontro cuore a cuore. Solo la bellezza permette questo cuore a cuore e credo che questa sia la lettura più profonda dell'arte. Possiamo certamente avere degli approcci anche più tecnici che sono importanti, necessari anche nella nostra formazione, sia quello più prettamente storico-artistico che è quello poi dopo anche architettonico, antropologico, teologico, però fondamentalmente è un incontro cuore a cuore che noi proponiamo ai turisti. L'arte è stato spiegato, arriva a compimento quando diventa luogo d'incontro. Centrale è il momento in cui la Pietra Viva, questi giovani fondamentalmente della fascia universitaria o giovani lavoratori, incontrano chi entra in chiesa per visitarla, per turismo, per curiosità, e da questo incontro è possibile fare un percorso in cui nell'arte, tra l'altro, riscopre qualcosa che da sempre ha dentro di sé. Quindi questo incontro evocativo di qualcos'altro, ecco, e il tramite è proprio l'arte. Ancora un progetto, Coding Lab Matera 2019, un laboratorio multimediale per bambini. Samsung Italia arriva a Matera per educare al digitale. I bambini del centro didattico L'Albero Azzurro, come dei veri e propri informatici, hanno appreso le nozioni basilari della programmazione, riuscendo a programmare dei mini-robot attraverso la collaborazione e l'aiuto reciproco. Un'iniziativa che non volge lo sguardo soltanto ai più piccoli, ma anche agli adulti. Oltre al Coding Lab per bambini, Samsung Italia ha organizzato il 27 luglio nella sala Mandela del comune di Matera il laboratorio Safe for Seniors, a favore dell'educazione digitale degli over 55. Allora, Samsung ha deciso di portare due progetti di responsabilità asiendale per Matera 2019. Il primo progetto è dedicato ai bambini dai 8 anni a 12 anni per insegnare pensiero critico attraverso attività di coding. Invece sabato, insieme con il comune di Matera, abbiamo previsto di insegnare ai seniors over 55 come utilizzare la tecnologia in modo corretto. Nella Capitale Europea della Cultura, la voce singolare di Taiwan. Matera incontra Taiwan grazie al progetto La Voce Singolare di Taiwan. Una delegazione aborigine giunta nella Capitale Europea della Cultura per condividere e promuovere la diversificata eredità culturale dell'isola attraverso laboratori culturali e performance musicali organizzate dal Museo Nazionale di Preistoria di Taiwan. Ci saranno danze, musiche e canti della tradizione di Taiwan alle monacelle il 26. Il 28 a Casa Cava a partire dalle ore 17. Ci sarà una serie di spettacoli del gruppo aborigeno e il 29 ancora alle monacelle a partire dalle 17. L'iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura di Taiwan con il patrocinio del Comune di Matera e della Fondazione Matera Basilicata 2019 con il supporto dell'Università della Basilicata. I nostri processi di internazionalizzazione che portano i nostri studenti i nostri docenti in tutto il mondo e pronti a nostra volta ad ospitare anche studenti e docenti che arrivano da ogni parte del mondo hanno proprio lo scopo di voler rinsaldare questi processi di conoscenza che arricchiscono tutti. Matera non è soltanto oggi simbolo dell'Italia ma è simbolo dell'Europa nel mondo. L'obiettivo è quello di far sì che Matera diventi una porta verso l'Europa attraverso la quale tramandare e preservare la preziosa eredità culturale austronesiana fatta di musica, danza e colori. E quello che loro presenteranno sono il meglio delle tradizioni, degli spettacoli, delle danze, delle musiche di Taiwan. Sono tutti invitati, la popolazione tutta e gli spettacoli sono aperti e loro si augurano che ci sarà una più ampia partecipazione perché gli spettacoli saranno veramente coinvolgenti, unici e attraenti. Lutto nel mondo della cultura a Matera si è spento Tommaso Niglio, il maestro di Cucù e fondatore della Hot Jets Band. Si è spento a 92 anni Tommaso Niglio, uno degli artisti più rappresentativi della storia e della cultura materana, terza generazione di costruttori di Cucù nata molto probabilmente già nella metà dell'Ottocento dal capo stipite Nono Giuseppe. Ma va a Masino, il merito di aver dato ai caratteristici fischietti un enorme salto di qualità, apprezzati da collezionisti ed estimatori dell'artigianato artistico. Nel 1956 anche autore del carro trionfale per la festa della Bruna insieme al fratello Giuseppe. Armonia e giovialità le armi vincenti della personalità di Tommaso Niglio, le stesse che si ritrovano nei suoi cucù e che in tantissimi hanno avuto modo di apprezzare nella musica della Hot Jazz, di cui è stato tra i principali animatori, un'orchestra ispirata a quelle statunitensi destinata a influenzare la cultura musicale materana per oltre 50 anni. Nel 2010 l'attuale sindaco Raffaello De Ruggeri in occasione della presentazione del volume Suono nelle mani, l'arte di Tommaso Niglio e di Antonella Mazzilli, riprendendo una citazione paragonò Tommaso a un angelo con una sola ala, perché per volare ha sempre avuto bisogno di abbracciare qualcun altro, un uomo che ha vissuto nel rapporto diretto con gli altri con una propensione creativa strettamente legata a una profonda dimensione umana. Lavorare, creare, vivere un'arte e divertire un segreto è stato sempre il suo motto, fino a poco tempo fa ha continuato in maniera infaticabile a realizzare cucù, fiero di essere stato colui che ha trasformato il fischietto in terracotta, nella massima espressione dell'artigianato artistico materano, simbolo di orgoglio e appartenenza della città. Nel 2014, su iniziativa dell'Ente Parco della Murgia Materana, ha ricevuto il premio Maestri e Territorio. Forme, colori, sfumature, ornamenti e suoni, Tommaso Niglio è stato in grado di rendere innovativa una tradizione che merita di essere conservata, preservata e valorizzata. Io la notte sogno sempre che la mattina poi ripeto tutti questi motivi, tanto che una signora mi chiese ma lei, signor Niglio, ha delle riviste? Che riviste? Sto in un cervello le riviste. È stata inaugurata a Matera la mostra Road to Tokyo, guardiamo. Un ponte che unisce Matera, capitale europea della cultura, a Tokyo, capitale mondiale dello sport. 365 giorni prima della cerimonia di apertura delle prossime Olimpiadi estive, si è inaugurata nei ipogei di Piazza San Francesco la mostra Road to Tokyo. L'esposizione fa parte delle iniziative della Fondazione Matera Basilicata 2019 ed intende raccontare la storia dello sport attraverso l'esposizione delle fiaccole olimpiche. Sarà aperta dal martedì alla domenica fino all'11 agosto. Presente all'inaugurazione, la vicepresidente del CONI, Alessandra Sensini, campionessa di Winsurf. Nel suo curriculum, sei Olimpiadi e quattro medaglie, un oro, un argento, due bronzi, quattro titoli mondiali e cinque europei. Sono veramente felice di essere qua a Matera e la mostra, devo dire, è stata allestita in maniera bellissima, proprio con il cuore. Entri qua e veramente rivivi le emozioni olimpiche. i filmati e tutti questi cartelloni che esprimono appunto i valori, i valori che lo sport esprime costantemente nella vita e quindi è collegato alla cultura. Ci sono cinque aree, c'è un'area di welcome dove ci sono le divise della delegazione italiana che vediamo principalmente il giorno della cerimonia inaugurale, c'è la mostra delle torce, c'è una sala video per vedere quello che sono le emozioni tipiche dei giochi, c'è una quarta area che è quella dove siamo, quella dedicata a Tokyo, che viene presentata con filmati, con le mascotte che la gente può prendere per farsi un selfie. Poi c'è un'ultima area che credo sia un vanto per uso impropriamente della prima persona provale, noi di Matera, perché abbiamo sfruttato gli ipogei per far vedere e capire alla gente alcune misure dello sport. Un libro delle firme posizionato all'ingresso della mostra darà anche la possibilità ai visitatori di proporre i loro candidati alla Hall of Fame della cultura sportiva. Il vincitore sarà proclamato il 20 dicembre. E siamo allo sport, il calcio alla vigilia della composizione del calendario 2019-2020. Sono stati accettati i ricorsi di Bisceglie, Audace e Cerignola, portando l'organico della Serie C a 61 squadre con il girone C, ovvero quello meridionale, a 21. Soddisfazione per la Puglia, che vede incrementare la presenza con cinque società dopo l'arrivo del Bari e le conferme di Monopoli e Virtus Francavilla. Nello stesso girone militano le Lucane, a Z Picerno e Potenza, in attesa di conoscere le prossime mosse della Lega Pro, che ha parlato di un evidente problema di soprannumero, è stato comunicato che si tornerà a giocare la domenica con orario alle 15.17.30. Bene, questa era l'ultima notizia. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Arrivederci.